Nonostante il maltempo, decima edizione della Cori con Samuere. Esattamente, siamo alla decima edizione, speriamo ovviamente che il tempo tenga e ci permetta di festeggiare questa edizione molto particolare perché arriviamo dopo dieci anni di esperienza a un nuovo percorso, ovvero abbiamo cambiato, invece di andare nei comuni di Borgaro e di Caselle ci troviamo in Mappano. Quindi il percorso si svilupperà esclusivamente all'interno del comune di Mappano partendo da via Borgaro, girando a destra per via Tibaldi e arrivando dentro il parco Unione Europea di Mappano. Abbiamo due percorsi principali che sono quello da 5 km e quello da 10 km che entrambi entrano nel percorso del parco Unione Europea. Prima alle 9 facciamo partire i bambini con delle batterie da 200 metri fino a 1 km. La cosa interessante di questa edizione per noi principale è quella di condividere, condividere un momento di festa come abbiamo fatto nelle passate edizioni proprio con le persone, con i mappanesi ma non solo, con tutti quanti gli appassionati di sport e con tutte quante le persone che amano la storia di Samuele. Storia di Samuele che è legata all'associazione Il Sogno di Samuele di Mappano, un'associazione che in 10 anni, sono quasi 11 ad agosto, è riuscita a fare veramente molto. Prima per il Chad con la costruzione di due scuole, una scuola elementare, una scuola materna e adesso ci stiamo impegnando per il sostentamento degli alunni ovviamente, degli insegnanti, perché puntiamo molto sull'istruzione che possa garantire un futuro anche nel loro paese, un paese martoriato non soltanto da carestie che arrivano come in Centrafrica, però anche dal pericolo del terrorismo, dell'ISIS o comunque dei fondamentalismi. Cosa possiamo dire? Siamo molto contenti di ritrovarci qua perché la raccolta di questi fondi ci permetterà finalmente di portare avanti un altro progetto, un progetto molto importante che saprà spiegarvi meglio Massimo che è il nostro esperto su questo e si tratta appunto del nuovo oratorio polifunzionale di Mappano. Raccolta fondi per un progetto territoriale, quello dell'oratorio. Sì, l'oratorio, allora Dario abbiamo già parlato del CAD, delle due scuole, però i nostri sforzi adesso si stanno tutti orientando verso questa struttura che impegna un sacco di attività, di professioni e che è il nuovo oratorio di Mappano. Teniamo presente che i primi progetti, le prime bozze risalgono già otto anni fa, è stato richiesto a suo tempo il permesso di costruire e dopo otto anni sappiamo come va la burocrazia, a volte siamo riusciti ad avere finalmente il permesso di costruire. Quindi lo scorso anno abbiamo dato l'inizio dei lavori e abbiamo cominciato a demolire la vecchia scuola che intanto per darvi un'idea ci troviamo vicino alla via parrocchia, quindi è una trassa via parrocchia vicino alla vecchia chiesa, alla chiesa di San Michele. Lì c'era il vecchio asilo, è stato demolito, prima è stata rimosso la copertura in internet e ora cominceremo i lavori veri e propri. Quindi c'è tutto un lavoro iniziale per individuare le fondazioni, per individuare i vari appalti, quindi tutti i soldini che sono stati raccolti. Vi ricordo che in dieci anni di attività questa associazione è riuscita a raccogliere qualcosa come 750 mila euro, una cifra quindi importante. Con un'attività come queste, in cui le persone vengono coinvolte, la comunità viene coinvolta e lo stesso oratorio serve per questo. L'oratorio è una struttura molto interessante perché è formata da un teatro di circa 250 posti, ci sarà una sala multifunzionale, poi diverse sale sempre multifunzionale per la catechesi, ci saranno delle attività esterne con un porticato che le collega, quindi tutta una serie di attività per la comunità, quindi non solo attività religiose ma anche attività laiche, a servizio di tutti. La modifica del percorso non è la sola novità di questa edizione? Sì, allora come diceva Dario, innanzitutto quasi tutto il percorso si svolge all'interno del parco chiamato, diciamo, all'interno della comunità Parco Europa. Cosa succede? Che l'idea è stata quella di individuare il percorso in maniera precisa, sia per un'attività diciamo al di fuori della Corri con Samuele, quindi una volta che finisce la gara vera e propria la comunità stessa potrà percorrere, fare questo percorso e come dire usufruire della segnaletica. Invece la segnaletica della Corri verrà posizionata sin dall'inizio sia per il percorso da 5 km che per il percorso da 10 km. Quindi ci saranno dei paletti colorati che spiegheranno bene come funziona il percorso stesso. Questa mattina la Corri con Samuele è un partecipante d'eccezione? Beh sì, avevo promesso da tempo, anche con l'amicizia che c'è con Maria Rosa, di partecipare, comunque mi fa piacere essere qui oggi sperando che non piova. Solitamente quante gare partecipa all'anno? Ma tre, quattro, non molte di più. Ormai sono in disarmo, lo faccio perché mi piace correre, vado a correre, seguo la squadra, ma oggi qui in rappresentanza della mia società ci sono solo io. È rimasta praticamente una passione che non muore mai. No, questa ormai rimarrà per sempre. 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 No, questa ormai rimarrà per sempre.